La scuola paritaria ha sempre una funzione pubblica, è l'istituzione pubblica per eccellenza. È vero che noi tagliamo 87.000 posti, noi licenziamo 87.000 persone perché sia gestita dallo Stato, sia una scuola paritaria, ha sempre una funzione pubblica, è l'istituzione pubblica per eccellenza. La scuola, secondo il Ministro, per essere efficiente deve raggiungere più autonomia. Sul capitolo Tagli, la Germania ha ricordato come la spesa per l'istituzione in Italia è sempre risciuta del 30% di usciane. Grazie. 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 Grazie.